Riprende il cammino della Teens Basket all'esordio nell'anno nuovo dopo una lunghissima pausa che dura dallo scorso 17 dicembre. E c'è da sperare davvero che il 2022 sia migliore dell'ultima parte del 2021, in cui i ragazzi di Coach Cardano hanno inanellato una serie terribile di risultati negativi. Domani sera al Forum, palla 2 alle 20.30, Maffei e compagni ospiteranno un abitue della categoria, la PNC Cerie. Come detto, l'ultima partita risale a prima di Natale. Una sconfitta maturata a Saravalle-Scrivia per ben 15 punti, la settima consecutiva, una striscia che è iniziata addirittura nella gara di andata contro la stessa Cerie. Un periodo nero caratterizzato da prestazioni coraggiose e onorevoli, come contro l'imbattuta e forse imbattibile Casale. Sconfitte minime contro avversari di rilievo, sonore batoste soprattutto lontano dal Forum. Vittorie nemmeno l'ombra, l'ultima risale alla seconda giornata contro l'orbita Torino. Era il 30 di ottobre. La classifica inizia a piangere, se il Teens sogna ancora di qualificarsi ai play-off, bisogna invertire subito il trend. I biellesi sono attualmente terzultimi, a braccetto con Arona, davanti solo a Rivarolo e alla stessa orbita. L'avversario di turno, Cerie, vanta una serie aperta di tre vittorie consecutive. A trascinare i torinesi, i punti del playmaker Mattia Savoldelli, 15 di media partita, ben imitato dall'ala Radu Draghici, 13 per lui, e dalla guardia Roberto Francione, a quota 11. Chi conosce bene la creatura di coach Giuseppe Siclari e Daniele Perino, lungo del Teens arrivato in estate proprio da Cerie, dopo essersi formato anche nelle giovanili biellesi. Tira un'aria di novità in casa Teens. Il presidente d'Agostino ha coinvolto nel progetto, sempre incentrato sui bambini e il minibasket, anche la leggenda Luca Garri, ben noto in città. A ridosso della partita sarà prevista la consueta sfilata della truppa di giovani giocatori, orgoglio del presidente. Il clima al forum lascia presagire grande entusiasmo. Ora è tempo di mietere qualche punto per far respirare la classifica.